Amici di Artamodino, ancora qualche consiglio per i regali dell'ultimo minuto, sempre e rigorosamente all'insegna dell'arte e del trash. Un classico del Natale è, lo sapete, regalare una sciarpa. Bene, quest'anno cambiate rotta, stravolgete tutto, regalate calzini, calzini artistici naturalmente. Guardate qui, Munch, Botticelli, Leonardo, Raffaello, sì, va già giù, chi più ne ha più ne metta proprio. Van Gogh, Van Gogh, sì, Van Gogh, quanti ne volete, tutti gli autoritratti a tutte le età possibili, con o senza orecchio. Insomma, a Natale, regalate calzini.